Parte la quinta edizione di Partenoplay, il festival del gioco per tutti, con attività ludiche e formative per bambini, genitori, educatori ed insegnanti. L'evento, gratuito ma con obbligo di prenotazione tramite il sito partenoplay.it, si svolgerà presso il Centro Congressi di Città della Scienza dal 10 al 12 marzo 2023, a illustrare l'iniziativa Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli. Partenoplay è il festival del gioco per tutti, un momento ludico per le famiglie, per i giovani, per gli appassionati. Si svolgerà a Città della Scienza, è la quinta edizione, inizieremo soprattutto con una prima giornata di formazione, il 10 marzo dalle 10 alle 17, dove educatori, insegnanti e genitori potranno partecipare. E poi l'11 e il 12 marzo attività ludiche tutta la giornata, dove sarà possibile partecipare in maniera gratuita. È possibile aderire dal 27 febbraio sul sito partenoplay.it.